Stanno mettendo in atto loro due oggi, perché questi due giovanotti, anzi questo giovanotto e questa giovanotta, oggi ci stanno dicendo che vogliono vivere insieme per il resto dei loro giorni e sono qui perché vogliono costruire questa loro casa sulla roccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.